Ciao a tutti da Freddy Veratti, oggi vorrei mostrarvi una piccola parte tratta anch'essa dal brano Buck Mock di Greg O. È una parte che tratta di sweep picking, ovvero di arpeggi, che hanno una piccola particolarità, vedremo quale sarà. La caratteristica di questo sweep picking è che l'ultima nota è anche la nota dalla quale si riparte automaticamente per risalire, cosa che invece di solito dall'ultima nota in molti sweep picking si lega alla penultima nota per poi tornare verso l'alto. In questo caso invece noi suoniamo l'ultima nota e torniamo automaticamente col plettro verso l'alto, quindi... Grazie per la visione Grazie Grazie.